un aereo di linea scompare cosa è successo? come può un aereo così grande sparire? io pensavo lo troveranno, l'abbiamo sempre fatto ma in questo caso non è andata così, è il più grande mistero dell'aviazione oggi nuove scoperte potrebbero rivelare cosa è successo davvero al volo MH370 della Malaysia Airlines vogliamo la certezza che quando saliamo su un aereo non rischiamo di scomparire nel nulla ci sono strane sparizioni che sfuggono a ogni spiegazione navi, aerei, persone, persino luoghi perduti per sempre svaniti in tutto il mondo sono in corso delle indagini su casi che finora non sono mai stati risolti vieni fuori riuscirà il progresso scientifico a far luce sul mistero di queste sparizioni? viviamo nell'era digitale telecamere di sicurezza, satelliti e innumerevoli altre tecnologie seguono ogni nostro movimento perciò quando un aereo sparisce c'è sempre una risposta l'errore del pilota, un guasto o il brutto tempo ma quando il volo MH370 svanisce non ci sono risposte la scomparsa di questo aereo diventa il più grande mistero dell'aviazione del ventunesimo secolo buongiorno signori buongiorno a voi richiediamo l'autorizzazione al decollo che è un'ottorizzazione al decollo che si è un'ottorizzazione al decollo che si è un'ottorizzazione al decollo